Oltre alla vaccinazione è importante mantenere il rispetto delle regole, le tre regole principali, cioè il distanziamento e quindi evitare gli assembramenti, l'uso corretto della mascherina e il frequente lavaggio delle mani. L'appello a non abbassare la guardia, nonostante la vaccinazione, Andrea Vesprini, direttore sanitario aziendale dell'IRCA, lo lancia nel momento in cui anche il geriatrico di Ancona ha attivato la somministrazione di Pfizer per i pazienti fragili. Una platea potenziale di oltre 10.000 persone, alcune delle quali però potrebbe già aver ricevuto il siero se prenotata individualmente. Nel nostro istituto di pazienti in carico abbiamo un numero abbastanza importante di pazienti diabetici, quelli che rientrano in questa fase nella vaccinazione sono i diabetici tipo 1 e i diabetici tipo 2 che assumono due o più farmaci o con complicanze. Poi abbiamo anche pazienti con insufficienza renale cronica, quindi dialitici, poi trapiantati, pazienti con malattie respiratorie e chiaramente con particolare che usano ossigenoterapia ad esempio. In più abbiamo alcuni pazienti neoplastici e cardiovascolari e cerebrovascolari ma con categorie molto particolari. Fondamentale la collaborazione tra enti. In questi ultimi mesi poi c'è stato un incremento importantissimo di ricoveri di pazienti anziani ma anche meno anziani e quindi siccome il nostro target sono i pazienti anziani, quando noi arrivano ad Ossimo, specialmente dal pronto soccorso di Ossimo, pazienti più giovani, noi li mandiamo in ospedali che trattano questi pazienti e riprendendo dei pazienti anziani. La pressione di ricoveri ha imposto la rimodulazione dell'IRCA di Ancona. Noi abbiamo una modulazione, una terapia semi-intensiva e siamo arrivati ad aprire ben quattro unità operative di posti letto per pazienti Covid e poi abbiamo anche riconvertito residenza d'Orica che sono delle cure intermedie per 42 posti letto per post critici. Da sabato 3 aprile via anche all'IRCA le terapie con anticorpi monoclonali. I pazienti sono i pazienti che si trovano in uno stato iniziale di malattia, vengono selezionati dai medici di famiglia e dai medici delle USCA e poi chiamano i pazienti per fare l'infusione. L'infusione che durerà un'ora e poi ci sarà anche un'osservazione, mezz'ora, un'ora, un'osservazione e poi post infusione. Dopodiché i pazienti tornano a casa. Grazie. Grazie. Grazie.